Il via da parte del Presidente Armando Foschi ha la realizzazione della pista ciclabile su Via De Gasperi. Si tratta di un progetto che mira alla realizzazione del collegamento tra il Ponte di Ferro con piazza Martiri Giuliano Dalmati e Via De Gasperi. Un cantiere aperto e sospeso, ha dichiarato il Presidente Foschi, perché gli scavi hanno portato alla luce i resti del muraglione dell'antica fortezza. Questo ha comportato l'intervento della Sovrintendenza, la quale ha chiesto a Rete Ferroviaria Italiana di occuparsi della parte sovrastante i reperti e garantirne l'accessibilità della medesima area archeologica, consentendone la visita da parte dei turisti. D'altra parte, l'architetto Pier Giorgio Pardi, responsabile del procedimento, ricorda la convenzione che il Comune di Pescara ha stipulato con Rete Ferroviaria Italiana, la quale accettava di realizzare un muro di contenimento, il raddoppio del sottopasso e le due rampe, una nord e l'altra sud, con una pendenza dell'8% per la pista ciclabile. Dopo l'esito della Commissione per il cantiere pista ciclabile in Via De Gasperi, sarà il Comune di Pescara, lo ha detto Armando Foschi, Presidente della Commissione Mobilità, ad occuparsi della sezione nord della pista ciclabile su Via De Gasperi, corrispondente al raddoppio del binario ferroviario della linea adriatica, mentre Rete Ferroviaria Italiana si prenderà carico della sezione sud. Foschi conclude dichiarando un limite di tempo di massimo 15 giorni, entro cui il Comune farà partire i lavori, sebbene tutte le opere dovranno concludersi obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2023.